Buonasera, siamo con Monsignor Gianni Ambrosio, la ringraziamo per questa intervista per il canale YouTube della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli. Dopo le dimissioni del Vescovo Santucci il 15 gennaio scorso, la Diocesi è in una situazione di sede vacante, come dice il diritto canonico. In questi primi giorni di permanenza sua qui a Massa ha potuto fare alcuni incontri con i rappresentanti delle istituzioni e c'è già stata qualche riunione anche con gli organismi diocesani. Quali sono le sue prime impressioni? Innanzitutto desidero rivolgere un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono e in modo particolare desidero rivolgere un saluto ai sacerdoti, ai diaconi, agli religiosi, alle religiose, insomma a tutti i fedeli della realtà ecclesiale di Massa Carrara, i pontremoli. Insieme a questo saluto anche una parola di incoraggiamento e di speranza. Io questo incoraggiamento e questa speranza li ho anche potuti in qualche modo sperimentare negli incontri che ho fatto, innanzitutto con i consultori che sono un po' diciamo i consiglieri del vescovo e poi anche con le autorità civile, a cominciare naturalmente dal prefetto, dal sindaco, sia di Massa come anche di Carrara, come anche con il sindaco di Pontremoli. Ho trovato davvero in tutti una disponibilità a lavorare insieme e a darci una mano proprio per riprendere con entusiasmo il nostro cammino. Ci sono tante ferite, abbiamo tanta paura per la pandemia, per altre cose, ecco però proprio perché siamo in difficoltà e lo siamo tutti e noi dobbiamo darci una mano proprio perché il nostro cammino possa procedere sicuro, spedito e anche con il cuore un po' pieno di gioia. Io ho trovato davvero questa disponibilità e anche le autorità civili mi hanno parlato delle cose belle, non solo dal punto di vista geografico, ma anche delle cose belle come animo, come disponibilità di Massa Carrara-Pontremoli. Quindi con queste parole diciamo beneauguranti anche da parte sia dei consultori come anche dei vicari forani, come poi delle autorità civili, con questi auspici buoni ecco possiamo proseguire il nostro cammino. Lei ha una lunga esperienza di pastore nel Ministero Episcopale in terra piacentina. Quali sono gli elementi fondamentali per un cammino comunitario ed ecclesiale? Credo che nella stessa domanda ci sia anche la risposta. Cammino comunitario, ecco credo che sia davvero molto importante mettere in noi davanti al nostro io. È davvero molto importante questo, lo è per la Chiesa, lo è per la società. Noi siamo insieme, le relazioni sono molto importanti, sono fondamentali, lo scopriamo anche per il difetto di relazioni che stiamo vivendo, quanto desideriamo poterci incontrare, quanto desideriamo poter così colloquiare senza troppi intoppi, mettere noi al centro, mettere diciamo in seconda istanza il nostro io. Ma ancor più per il cammino ecclesiale è mettere lui al centro della nostra vita e cioè mettere il Signore. È con noi, è risorto, cammina con noi così come ha camminato con quei discepoli di Emmaus che avevano il cuore triste e non riuscivano a comprendere il misterioso progetto di Dio. Il Signore Gesù camminava con loro, si è fermato con loro, ha spezzato il pane, ha illuminato le loro menti con la parola, interpretando le scritture. Ecco così dobbiamo fare anche noi, ricordare che lui è al centro e noi siamo come discepoli che seguiamo il Maestro ritrovando davvero la luce per il nostro cammino. Questo vale naturalmente per la realtà ecclesiale, ma vale anche per la realtà civile. Abbiamo bisogno di collaborare insieme per far fronte a questa terribile sfida della pandemia. Sappiamo che il suo incarico come amministratore apostolico della Diocesi avrà una durata limitata nel tempo, almeno fino a quando il nuovo Vescovo farà il suo ingresso in Diocesi. Spesso in questi giorni la stampa, ma anche l'opinione pubblica l'ha un po' raffigurata come fosse un traghettatore di questa chiesa. In realtà come le piacerebbe che venisse presentato? Innanzitutto evitando questo infelice termine traghettatore, non c'è un fiume da attraversare e se ci fosse il fiume da attraversare io per primo sarei in grande difficoltà, anche perché lo confesso, qui a massa, non sono capaci di nuotare e quindi sarei in grande difficoltà. Quindi lasciamo stare questa reminiscenza, diciamo, dantesca e parliamo invece del servizio. Ecco, mi pare che tutti noi che abbiamo ricevuto una missione siamo al servizio di quella missione per la quale siamo stati incaricati e siamo davvero servi, cioè doniamo un po' di noi stessi e della nostra vita per la vita buona degli altri. Gesù ha dato tutto se stesso, per noi insomma è più difficile dare tutto, però dare davvero il nostro cuore, la nostra disponibilità, aiutarci a ritrovare la serenità, la gioia, pur in mezzo alle difficoltà della vita. Ecco, questo è il servizio che mi è stato chiesto, naturalmente quando ho sentito il nome del Santo Padre, Papa Francesco, e loro ha detto guardi io sono disponibile, se posso dare una mano la do molto volentieri, ma sempre davvero con questo spirito di disponibilità a servire. Perché a questo siamo stati chiamati e dobbiamo dunque essere capaci di offrire questo nostro servizio di buona umanità, di intelligenza anche della realtà, illuminandola con quella luce che ci proviene dalla fede nel Signore Gesù, morto e risolto per noi, per la nostra salvezza. Lasciamo stare il traghettatore, mettiamo servo, servizio al centro. Viviamo ancora nel tempo della pandemia, dove i rapporti sociali sono fortemente limitati dal rischio di essere contagiati da questo virus. Anche il territorio dal quale proviene, che è la diocesi di Piacenza-Bobbio, ha vissuto drammaticamente questa esperienza, non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista delle conseguenze economiche e sociali. Con quale spirito allora i credenti possono affrontare questa sfida? E con quale contributo possono aiutare la società, la comunità civile a uscire da questa difficoltà? è davvero una sfida, una sfida molto grande. L'ha ricordato anche in più occasioni Papa Francesco. E proprio da Papa Francesco ricaverei quello spirito che ci consente di attraversare, io lo chiamo il deserto, nel quale noi siamo dentro e che dobbiamo davvero attraversare. Deserto perché sperimentiamo la fragilità della nostra vita, siamo limitati, certo meno male che adesso c'è anche questo vaccino e speriamo che questo possa aiutarci, però abbiamo preso consapevolezza dei nostri limiti, anche dei limiti di quella scienza che pure ha fatto grandi, grandi progressi, ma che di fronte a un qualche cosa di invisibile manifesta la sua impotenza, l'impotenza di tutti noi. Ecco quindi l'esperienza della fragilità dovrebbe aiutarci a guardare un po' di più verso l'alto. Guardiamo troppo verso la terra, se guardassimo un pochino più in alto, se avessimo il coraggio anche di invocare maggiormente la luce per il nostro cammino, se ci diamo una mano perché siamo tutti nella stessa barca, come appunto anche Papa Francesco ha detto, allora il cammino diventa, pur se difficile, pur se oscuro, diventa un cammino praticabile da parte di tutti. Ecco credo che la comunità cristiana, illuminata dalla fede, sostenuta dalla speranza e animata davvero dalla carità, la comunità cristiana possa dare un aiuto prezioso in questo momento, per non perdere la speranza, per sapere che nulla accade così per caso, che c'è un filo rosso, difficile naturalmente da scoprire, certamente, ma c'è un filo rosso anche attraverso questi avvenimenti difficili, c'è una parola che ci viene offerta e che noi dobbiamo accogliere per poter infondere questa luce, donare questa speranza. Ecco, è la grande sfida proprio della comunità cristiana essere oggi, in un momento difficile, capace di aiutarci, capace di ricordare che siamo insieme, ma capace anche di invocare, perché il grande servizio della preghiera molte persone l'hanno sperimentato durante questa pandemia. Lo dico a proposito di Piacenza, perché dal punto di vista delle percentuali forse siamo stati anche in alcuni momenti più tribolati che non nel Bergamasco o in altri posti, ma la forza della preghiera, in forme anche inedite, ha permesso a tutti di poter continuare con fiducia il cammino. Ecco, spero che questo possa essere davvero il prezioso contributo che la comunità ecclesiale può offrire, naturalmente lasciandoci sempre ispirare da Papa Francesco, lasciandoci ispirare da tante persone che pregano, da tante persone che offrono il proprio volontariato per portare le medicine, per venire incontro alle tante difficoltà. La ringraziamo della sua disponibilità e del suo impegno e le auguriamo buon lavoro.